20 ottobre 2008, muore Vittorio Foa. Nel corso della sua lunga vita, Foa partecipa da protagonista ai momenti più importanti della storia del movimento operaio e della sinistra italiana. Dagli esordi in giustizia e libertà negli anni 30 alla resistenza, dalla costituente alla militanza nel partito socialista italiano e in quello di unità proletaria. Vicino al partito comunista italiano, come indipendente, Foa è attivo anche nel sindacato. Nel 1948 entra nella FIOM nazionale e nel 1955 ne viene eletto segretario.